Ciao amici di Unibet, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dedicato al calciomercato con diverse squadre protagoniste nel corso degli ultimi giorni a partire dall'Inter che sta per completare l'operazione con il Valencia che porterà Joffre Condogbia a vestire la maglia del club spagnolo e di contro Jo Cancelo a diventare il nuovo terzino destro nero-azzurro Inter molto attiva anche su un altro fronte gestioni sempre con il Valencia quello legato a Jason Murillo, il difensore centrale colombiano vestirà la maglia del Valencia e l'Inter è ancora alla ricerca di un potenziale sostituto con Eliakim Mangalà e questo nuovo nome legato a Mustafi dell'Arsenal che sembrano essere quelli principali presi in considerazione da Sabatini e Piero Ausilio per quanto riguarda invece il Milan è ormai agli sgoccioli in positivo la trattativa che porterà Nicola Cani invece a vestire la maglia rossonera sarà lui quindi rinforzo per l'attacco del Milan mentre per quanto riguarda il discorso legato alla Roma è sempre grande attesa per quanto riguarda l'esterno d'attacco perché Munir sta scalzando le posizioni rispetto alla concorrenza anche se Quadrado è un giocatore che piace molto a Monci Munir è un'alternativa da tenere in considerazione soprattutto dopo che la trattativa per Mares con il Leicester sia praticamente arenata rimane invece sempre viva la pista legata a Keita Baldi al di là delle smentite di Beppe Marotta perché la situazione con la Lazio è ormai agli sgoccioli con il giocatore che è arrivato al muro contro muro con il club bianco celeste e tante le squadre interessate a lui si parla di mobbing cercheremo di capire nei prossimi giorni quale potrà essere la sua destinazione Grazie per la visione!